Buongiorno a tutti e benvenuti al canale di Office of Cards. Allora, dopo il grande successo del video su come fare una slide perfetta, che ad oggi è il video con più visualizzazioni e vi ringrazio enormemente per il tempo che avete dedicato alla visione di quel video, oggi voglio condividere il complemento a uno, che sono le mie dieci regole per fare una presentazione fatta bene, ok? La slide è un elemento di una presentazione. La presentazione fa parte delle nostre vite, è un oggetto che nel bene o nel male ogni giorno dobbiamo saper utilizzare per poter trasferire informazioni. La presentazione ha due vantaggi. Il primo vantaggio è che ci forza a dover fare una sintesi del nostro pensiero. Quindi tipicamente noi spendiamo ore e ore, giorni, a volte settimane e mesi a creare una storia, a fare un'analisi, a cercare di convincere qualcuno di qualcosa. Ecco, la presentazione è uno strumento di sintesi che prende tutto il nostro lavoro e cerca di riassumerne i punti chiave, ok? Ma spesso e volentieri la presentazione non viene strutturata come sintesi, ma viene strutturata come la mia biografia, la storia del lavoro che ho fatto. Ecco, io ho imparato per fortuna, ho avuto dei manager all'inizio della mia carriera, che mi hanno dato dei trucchi per fare presentazioni di grande impatto, presentazioni che raggiungono l'obiettivo. L'obiettivo tipicamente è convincere qualcuno a fare qualcosa, ok? Ti faccio vedere una serie di informazioni affinché tu possa prendere la decisione che io vorrei che tu prendessi. Presentazioni di vendita, presentazioni interne, presentazioni di analisi che sono finalizzate a prendere una decisione. Ecco, se cannate la presentazione potete aver fatto un lavoro enorme e perfetto, ma rischiate di non portare a casa l'obiettivo e questo è frustrante. Quindi vi condivido adesso le mie dieci regole per una presentazione di successo. Allora, la prima regola è definire l'obiettivo della presentazione, ovvero che cosa io voglio che la persona che riceverà questa presentazione si porti a casa. Ecco, questo è molto importante perché spesso e volentieri con questa regola io posso eliminare l'80% delle slide. Quando io faccio vedere delle slide, ogni slide deve essere coerente con l'obiettivo della presentazione. Se l'obiettivo è convincerti che stiamo perdendo clienti e dovremmo quindi fare questa determinata cosa per fermare l'emorragia, ecco che farti vedere una serie di slide che non c'entrano niente con questo messaggio, che però ti fanno vedere che ho fatto tanto lavoro, ho fatto tante ricerche. Non mi interessa. Non mi interessa vedere tutto il lavoro che hai fatto. Quello che mi interessa è il problema che tu mi devi condividere e la decisione che dobbiamo prendere. Quindi con questa semplice regola, definizione dell'obiettivo e valutare se ogni slide che voi mettete aiuta a raggiungere questo obiettivo, avete già risolto il problema dell'abbondanza di slide. Io quando vedo delle presentazioni da 100 e passa slide mi preoccupo molto, no? Anche perché dico 100 e passa slide, 2 minuti a slide sono 4 ore di presentazione, cioè non ce la facciamo. Ecco, se voi invece avete un obiettivo chiaro, ecco che le slide sono 10, 15, 20, non di più, ok? Quindi punto 1, definire l'obiettivo. Il punto 2 l'ho preso a prestito da un libro che ho suggerito tantissime volte che sono le sette abitudini delle persone di successo di Stephen Covey, no? E questo, uno dei suoi, una delle sette abitudini è inizia con la fine in testa. Bene, allora cosa vuol dire questo nell'ottica di una presentazione PowerPoint? Significa molto semplicemente scrivere tutta la storia prima di iniziare a popolare le slide. Io vedo un sacco di gente che inizia con adesso scelgo il template, il colore, va avanti, una slide la riempie tutta, poi si preoccupa di quella dopo. Non è il metodo giusto. Il metodo giusto per fare una slide fatta bene è scrivere prima tutta la storia. Io addirittura, all'inizio della mia carriera mi è stato insegnato scrivi tutti i titoli delle slide prima ancora di riempire il contenuto delle slide. Quindi per esempio noi abbiamo, l'esempio che facevo prima, abbiamo un'emorragia di clienti. Prima slide, abbiamo un'emorragia di clienti e questa fa vedere un grafico che farà vedere che i clienti stanno lasciando le nostre piattaforma. Seconda slide, i clienti ci stanno lasciando perché? E poi faccio vedere un'analisi che dice perché ci stanno lasciando il servizio clienti, i costi, i prezzi, quello che volete voi. Terza slide, quindi siccome ci stanno lasciando per questi motivi abbiamo analizzato queste possibili soluzioni, soluzione 1, 2, 3. Poi slide successiva, la soluzione 1 significa spendere questi soldi e avere questi risultati. La soluzione 2, questi soldi e questi risultati. La soluzione 3, questi soldi e questi risultati. Slide finale, pertanto sulla base di quanto abbiamo visto pensiamo che la soluzione 2 sia quella che ci dà il maggior ritorno dell'investimento nel breve periodo, quindi suggeriamo di fare questo investimento. Ecco, tutti questi titoli io li ho scritti prima ancora di pensare a quali grafici utilizzare per esporre il mio punto. Proprio tutta la storia, è fatta, ok? Questo è l'inizio della mia carriera. Oggi invece che farlo su PowerPoint lo faccio su Doc, ok? Quindi Word, Google Docs, quello che usate voi, Notepad, quello che volete voi. Io scrivo dei bullet che sono come se fosse il titolo di un paragrafo e poi scrivo i titoletti dei sottoparagrafi che rappresentano il contenuto delle slide. Questo mi permette di avere una storia chiara e poi di andare a cercare informazioni che corroborano questa storia. Questo è molto molto importante perché, ve l'avevo già detto l'altra volta, il titolo deve essere parlante, quindi chi seguirà questa presentazione? È come se vedesse un film. Non un freddo elenco di dati, ma una storia chiara con delle frasi che dicono è successo questo, è successo per questo motivo, le opzioni che abbiamo sono queste, io farei questa. Capite quanto è lineare, invece che avere contenuti che dicono ah, andamento dei clienti. E cosa vuol dire andamento dei clienti? Devo essere io che poi capisco che stanno calando. No, te lo dico io che il problema è questo. E poi, possibili opzioni, ho capito, mi metti dei numeri, non vogliono dire niente. Fammi vedere, opzione 1 significa questo, 2 questo, 3 questo, molto chiaro, molto to the point. Quindi il secondo suggerimento è scrivere tutta la storia prima ancora di popolare la prima slide. Il terzo suggerimento è un concetto per ogni slide. Non mettete 30 decisioni in una slide. Non mettete gli elementi che possono deragliare il pensiero di chi vi ascolta su una slide. Se una slide rappresenta un concetto, la probabilità che questo concetto passi e che quindi poi ci sia un esso logico sensato alla slide successiva è molto alta. Nell'esempio che vi facevo prima, se io metto una slide che dice i clienti stanno calando, punto. Qual è la domanda che vi viene dopo che vedete questo fatto? Dite, ok, stanno calando, ma perché? È la slide dopo. Capite come la storia sia coerente, no? Quindi mettetevi sempre nella situazione di dire qual è un punto che mi porto a casa da questa slide. Tipicamente questo punto lo metterete nel titolo, è il titolo della slide, ma assicuratevi che non emergano altri sottopunti a meno che poi non li esplodiate in slide successive. E perché dico questo? Non perché dobbiamo nascondere informazioni ai nostri manager, ci mancherebbe, ma perché il nostro manager, che non spende il tempo che spendiamo noi a fare quell'analisi, ma spende quell'ora che vi dedica per ascoltarla, potrebbe cominciare a fare domande che lui non lo sa, che sono domande di buon senso, che però non servono niente ai fini della riunione e la deragliano, perché nel momento in cui comincia a fare domande e voi non siete preparati, ma allora comincia magari una componente emotiva, non lo sai, ah sì, torno da te, e perdiamo tempo. Dovete fare un lavoro di sintesi che tenga un guardrail strettissimo sulla discussione e la tenga, anzi niente guardrail, parliamo di binari così almeno non ci sono scostamenti, i binari devono essere chiari e non ci devono essere scostamenti sui binari, ok? Dovete essere un punto per slide chiarissimi su che cosa la persona si deve portare a casa da quella slide e niente altro. E se c'è qualcos'altro che posso portarmi a casa deve essere in una delle slide successive, approfondito così dite, ok? La domanda l'ho capita, adesso arriva la risposta. Quindi mi raccomando ragazzi, un concetto per ogni slide. Il quarto è molto semplice ed è poco testo, ok? Io vedo delle slide, soprattutto quelle degli amici avvocati che sono praticamente un world wall, no? Un muro di parole e non va bene, non va bene perché se metti tanto testo ci sono due problemi. Il primo è che ti verrà da leggerlo e allora la slide a cosa serve? Non è un supporto, è uno script ed è una cosa diversa. Il secondo è che la legge è chi ti ascolta, ma il problema è che quando lui sta leggendo la frase 2 tu stai dicendo la frase 3. Quindi questo genera una difficoltà di comunicazione enorme, cioè è meglio non averla. E allora se devi fare un muro di testo, lo strumento si chiama Word o Google Docs, scegliete voi. Non è una slide, ok? Limitate il numero di parole nelle slide, non mettete frasi, mettete bullet, mettete parole, mettete dei richiami che servono a voi quando presentate per mettere enfasi sul punto A, il punto B e il punto C. Ma non dovete assolutamente ripetere quello che c'è scritto nella slide e più le riempite di testo, più è probabile che leggerete voi o chi vi ascolta e questo, come spiegato, è un problema. Il quinto punto è che la slide deve essere chiara, ok? Chiara vuol dire che trasmette il messaggio che deve trasmettere, un concetto per slide, deve essere evidente, deve emergere. Se la slide la guarda vostra madre, che magari non sa niente di quello che fate, deve capirlo, ok? Questo vuol dire chiara, che non vuol dire bella. Quindi, al secondo passaggio, ho scritto tutti i titoli delle slide, adesso sto cominciando a popolarle di contenuti per trasmettere i punti e corroborare i punti che ho messo nei titoli. Il secondo passaggio è dedicato alla chiarezza. Il deck deve essere chiaro, deve essere comprensibile e uno che lo guarda senza il vostro commento deve capirlo, ok? Questo è molto, molto, molto importante perché è qua che vi portate a casa il cliente. Col primo passaggio vi portate a casa il suo livello di attenzione attraverso tutta la presentazione. Con questo passaggio sulla chiarezza vi portate a casa la comprensione di ciascuno dei punti che vi porterà poi all'outcome, all'obiettivo desiderato, che è la presa della decisione che voi prendereste e che deve prendere invece la persona alla quale state presentando. Quindi spendere tempo su rendere la slide chiara è fondamentale, ok? Il punto deve essere compreso da uno che non è un esperto della cosa di cui state parlando. Il sesto trucco operativo ma fondamentale è l'uso del colore. Allora, il colore, il grassetto, l'elenco puntato vanno utilizzati con parsimonia. Quindi non fatemi vedere slide con 28 colori perché avete esagerato. Scegliete un color coding, quindi rosso per le cose negative, verde per quelle positive, blu per quelle neutre, quello che volete voi, e utilizzate sempre quello, come se fosse una sorta di libro creativo, no? Il brand book, no? Il brand si usa così. Bene, il vostro marchio, il marchio con cui voi fate le presentazioni deve essere definito una volta per tutte. Quindi utilizzare due o tre colori, Utilizzare il grassetto per evidenziare le parole su cui volete venga messa enfasi. Quando mettete una frase, ho detto di non metterle, ma se proprio dovete metterle, mettetele di poche parole, ma la parola chiave la dovete mettere in grassetto, così che uno che butta l'occhio vede subito che il focus è su quella parola e quindi dice ok, ho capito la parola, adesso magari leggo anche la frase finché questo me la spiega, ok? E ti seguo, ok? Questo è molto molto importante. Non abbondate con i colori perché altrimenti diventa confuso. Se voi fate vedere una parola rossa, una verde, una gialla, una rosa, diventa complesso, ma soprattutto poi avete anche il problema che quando presentate su uno schermo, tipicamente si vede come si vede sul vostro schermo del computer, ma se presentate su un proiettore, rischiate anche che l'azzurro sul giallo non si vede. E allora no. Usate pochi colori. Lo sfondo bianco va benissimo, ok? Il testo lo fate nero. Quando dovete mettere qualcosa in enfasi, scegliete un colore, il rosso, e quella in enfasi, punto. Dopodiché i grafici, di nuovo, se mettete 15 linee in un grafico, forse è un grafico non rilevante. Mettetene 3 o 4, ok? Voi mi dite, sì, ma io ho 15 prodotti. Allora metti, siccome è difficile che siano tutti 15 esattamente allo stesso livello, magari fai due grafici. Uno per i prodotti che vendono tanto, su una scala, e uno per quelli che vendono poco, su un'altra. Così possiamo apprezzare i movimenti. Cercate di evitare la confusione. Meno roba c'è in una slide, più è probabile che stiate passando un punto solo, ok? E più è probabile che la persona che vi ascolta segua il vostro punto, invece che dire, scusami, ma quella linea là del prodotto 28, perché fa così? Scusami, ma la presentazione è sui prodotti 1, 2, 3, perché mi chiedi il prodotto 28? Sapete qual è la risposta? Perché voi avete messo quella riga e gli avete dato il gancio per farvi questa domanda. Quindi la colpa è vostra, ovvero non mettetela, ok? Settimo punto, carattere, il font. Usatene uno solo, punto. Regola semplicissima da seguire. Non diventate matti con le cose complicate, usate l'elvetica, usate quello che volete voi. Uno per ogni presentazione, che va dal titolo ai bullet, al testo, alle footnotes, dovunque, ok? Questo è molto, molto, molto importante, perché confonde se cambio font tutte le volte. Assicuratevi che ci sia consistenza sui caratteri. L'ottavo punto sono le immagini. Volete usare le immagini? Benissimo. Come ho detto prima, non abbondate e soprattutto fate in modo che le immagini che utilizzate siano finalizzate a rendere il punto che state cercando di passare più chiaro. Se voi prendete un'immagine con quella finalità, difficilmente sbagliate, ma questo vuol dire che avete fatto un sacco di lavoro e avete un sacco di chiarezza su che cosa volete passare, ok? Quindi immagini, volete utilizzarle? Benissimo. Utilizzatene poche, non abbondate e soprattutto domandatevi, quest'immagine rende il punto che sto cercando di passare più chiaro? Si è risposta, è sì, la utilizzate. Se no, togliete. Il nono punto è un po' da nerd, ma è molto, molto importante e sono le note a piedi pagina. Allora, nelle note a piedi pagina voi avete l'opportunità di aggiungere un sacco di valore. La prima cosa da mettere sono definizioni esorgenti, no? Se voi avete messo dei numeri, dovete scrivere da dove li avete presi. Così quando qualcuno vi chiede, ma da dove viene sta roba? C'è il report da cui l'avete preso, la query da cui l'avete preso, per esempio per chi di voi è un po' più sviluppatore e il codice da cui vengono estratte le cose che vengono messe nelle slide lo scrive, mettete la vostra pagina GitHub, mettete il vostro link, così chiunque prenda in mano quella slide è virtualmente capace di ricostruire quello che state dicendo, ok? Questo è molto importante e vi aiuta quando le vostre slide vengono circolate al di fuori della vostra cerchia, quindi è qualcuno a cui l'avete mandata che poi l'ha inoltre a qualcun altro e voi non lo sapete. Questo è molto, molto importante perché questa persona può andare a vedere il vostro codice e magari vi dice guarda che hai sbagliato questo, questa definizione è diversa, oppure magari avete fatto giusto voi e state correggendo un errore che ha fatto un'altra persona oppure banalmente avete fatto un'analisi per il mercato italiano, il vostro collega tedesco prende il codice, cambia il country code, copia e incolla e ce l'ha anche lui. Molto, molto importante anche perché è un trucchettino per stabilire relazioni, no? Perché se aiutate qualcuno condividendo il vostro codice vi state facendo un amico, ok? L'altra cosa da mettere in basso nelle note a piedi pagina è il vostro nome, il nome di chi ha fatto la slide. Perché questo? Perché se mi viene una domanda su questo contenuto io voglio sapere a chi farla. E allora, nel caso in cui una slide sia la sintesi di un lavoro di squadra dove un po' di lavoro l'ha fatto Giulio, un po' di lavoro l'ha fatto Maria e un po' di lavoro l'ha fatto Tiziana, io che sono il manager di tutti magari non ho la risposta di micro dettaglio su tutti, ok? E quindi che cosa faccio? Molto semplicemente dico Tiziana metti il tuo nome, Maria metti il tuo nome, Giulio metti il tuo nome. Così quando c'è una domanda su una delle tue slide, se non la so, io dico da manager chiedi a Giulio. In questo modo rendo la mia persona più visibile, quindi diciamo valorizzo il lavoro della persona, l'effort che ha fatto per creare quella slide e soprattutto permetto a Giulio di essere responsabile di quello che ha detto. Perché alla fine è vero che magari in certe situazioni il lavoro lo presenta il manager, anche se a me non piace, però spesso è così, bene, però il lavoro delle persone deve essere enfatizzato, deve essere sottolineato. Quindi assicuratevi di mettere il nome di chi ha fatto il contenuto di quella slide nelle note a piedi pagina. Quindi avete il nome, il codice e le sorgenti. Queste cose sono fondamentali soprattutto nelle grandi aziende multinazionali dove le slide girano ben al di fuori della cerchia delle persone a cui l'avete mandata voi. E l'ultimo trucchettino, ragazzi, non è un trucchettino, è una cosa che proprio detesto, ma che fa la differenza e sono i typo. Quindi rileggetevi la vostra dannata presentazione e assicuratevi di non aver fatto errori di battitura, errori di digitazione, errori stupidi che quando magari fate vedere la slide vi tirate dietro la sottolineatura rossa zigzag di PowerPoint che fa vedere che c'è un errore. Ok? Io sarò anche nerd a modo mio quando c'è un typo nella slide vedo praticamente solo quello, però è anche un segno di rispetto. Se l'avete riletta bene, avete trovato tutti gli errori di battitura, li mettete a posto ed è la vostra firma, la firma di uno che non sbaglia, che fa un lavoro profondo, che cura il dettaglio e che si preoccupa di trasmettere un'informazione importante a un manager affinché questo possa prendere la decisione migliore possibile senza alcuna distrazione. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Qui su YouTube ne trovate altri con alcuni consigli pratici come questi o cose magari un pochino più teoriche che spero vi siano altrettanto utili. Se vi è piaciuto guardate gli altri e poi magari fate un subscribe al canale così ogni settimana avete una pillola nuova. Buona giornata!